In una fredda giornata invernale il calore delle stanze fluisce all'esterno della casa attraverso muri e finestre. Nel soggiorno della casa di Lucia sono presenti tre finestre identiche attraverso le quali si ha un flusso complessivo pari a 3,9 per 10 alla quarta joule su secondo. Sapendo che all'esterno della casa la temperatura è di meno 4 gradi centigradi mentre all'interno della casa è di 16 gradi centigradi determina la superficie di ciascuna finestra. La conducibilità termica del vetro della finestra è pari a 1 watt su metro per kelvin e il vetro è spesso 6 millimetri. Rappresentiamo schematicamente la situazione tramite questo cartoncino. Questo rappresenta il vetro della finestra, questa è la parte interna, questa è la parte esterna. Il calore fluisce dall'interno verso l'esterno abbiamo indicato con phi il flusso di calore. L e lambda sono i parametri che descrivono il vetro della finestra. La propagazione del calore per conduzione è regolata almeno ad un livello più elementare tramite la legge di Fourier. Questa legge dice che il flusso è uguale a lambda, dove lambda è appunto il coefficiente di cui abbiamo parlato nel testo del problema, per delta t che è la differenza di temperatura fra l'esterno e l'interno, per la superficie fratto lo spessore del mezzo che fa da conduttore. Nel nostro caso abbiamo tre finestre, perciò la superficie del vetro attraverso cui avviene il flusso di calore è s uguale 3s1, dove con s1 abbiamo indicato la superficie della singola finestra. Riepiloghiamo i dati del problema. Abbiamo il flusso di calore, il numero di finestre, la temperatura esterna e quella interna, la conducibilità termica del vetro e lo spessore del vetro. La quantità che dobbiamo determinare è la superficie della singola finestra. Per determinare la superficie di ciascuna singola finestra dobbiamo invertire questa equazione, o meglio, dobbiamo risolverla rispetto ad s. Intanto moltiplichiamo per l entrambi i membri. lfi è uguale a lambda per delta t per s. s, ricordiamo, che è 3 volte s1, la superficie della singola finestra. Da questa equazione ricaviamo la superficie della singola finestra. s1 è uguale a lfi e dividiamo per il coefficiente di s1, ovvero 3 per lambda per delta t. Delta t rappresenta la differenza di temperatura, temperatura interna meno temperatura esterna. Notiamo che le temperature sono date in gradi centigradi, mentre l'unità di misura nel sistema internazionale è il Kelvin. È pur vero che la differenza di temperatura misurata in gradi centigradi o Celsius è la stessa di una differenza di temperatura misurata in Kelvin. Perciò possiamo scrivere s1 uguale lfi fratto 3 lambda temperatura interna meno temperatura esterna. A questo punto tutte le quantità che compaiono in questa formula sono dati del problema. Sostituiamo i valori numerici. S1 uguale l, che sono 6 mm, ovvero 6 per 10 alla meno 3 metri, per phi, quindi per 3,9 per 10 alla quarta joule su secondo, fratto 3 per lambda. Un watt su metro per Kelvin. Per la temperatura interna, 16 gradi Celsius, meno la temperatura esterna, meno 4 gradi Celsius. Il valore numerico che otteniamo è 3,9. Per quanto riguarda l'unità di misura, abbiamo al numeratore metri per joule su secondo. Ricordiamo che un joule su secondo è un watt, quindi avremo watt fratto watt su metro e quindi invertendo possiamo scrivere metro su watt. La differenza di temperatura è misurata in gradi centigradi, ma come abbiamo detto è lo stesso che misurarla in Kelvin, perciò questa unità di misura si semplifica con questa. Quaggiù abbiamo il watt che si semplifica con un watt, perciò rimaniamo con un metri quadri. Del resto questa è la superficie di una finestra e deve perciò misurarsi in metri quadri.